ringrazio ermette ringrazio tutti i presenti saluto il ministro saluto francesco costarace tutti voi vi parlo da un paese il bello che queste ore è stato colpito da insieme alla germania naturalmente ma anche questo paese ha avuto 24 morti ieri per queste questi fenomeni meteorologici estremi e quindi l'occasione anche naturalmente per ricordarci tutti che siamo anche di fronte a famiglie vittime situazioni davvero molto molto tristi e l'unione europea per rispondere alla domanda e anche a quello che diceva ermette l'unione europea ha investito moltissimo sulla propria identità verde si potrebbe dire che questo green deal è un po' la carta di identità della commissione von der Leyen sin dall'inizio fu stato lanciato questo green deal nel gennaio del 2020 prima della prima della eh pandemia e e siamo a due giorni eh mercoledì scorso abbiamo varato questo pacchetto che che chiamiamo fit for fifty five e che credo che sia anzi so che è eh il pacchetto legislativo più imponente eh che la commissione europea abbia mai varato sono dodici eh proposte legislative e ci sarà un percorso molto a lungo accidentato controverso nel quale eh sia eh gli stakeholders le NGO i movimenti di opinioni ma soprattutto innanzitutto i governi nazionali saranno coinvolti interessati e si faranno sentire e molti si sono fatti sentire parecchio anche nei tre o quattro mesi che abbiamo alle spalle però indubbiamente questo pacchetto eh presentato l'altro ieri fa parte di una strategia dicevo identità della nuova commissione europea molto costruita attorno al green deal e poi la decisione sapete che la proposta del green deal era la neutralità climatica al duemilacinquanta e all'epoca era prevista una tappa intermedia per il duemilatrenta di riduzione del quaranta per cento delle emissioni poi nel mezzo della pandemia esattamente un anno fa eh la commissione ha deciso di eh aumentare l'ambizione del duemilatrenta da quel quaranta al cinquantacinque per cento e il pacchetto di misure di ieri per questo si chiama fit for fifty five eh è il pacchetto che rende questo incremento di ambizione ridurre del cinquantacinque per cento possibile eh credo che la prima cosa che da dire è che questa ehm decisione presa un anno fa e che quando è stata presa obiettivamente poteva anche apparire più spericolata di quanto non appaia adesso perché insomma siamo in mezzo a una pandemia peraltro nel nel nell'anno in cui abbiamo preso questa decisione la la pandemia aveva portato a ridurre del sei sette per cento le emissioni a livello globale per per i lockdown i blocchi delle attività industriali insomma aspettate un attimo a a a rilanciare eh l'obiettivo e tuttavia eh tutti gli gli studi di impatto che facevamo nella prima metà dell'anno scorso ci dicevano che quel quaranta per cento non era coerente con la neutralità climatica del duemila cinquanta e poi siamo credo ora in condizione di dire che tanto spericolata quella decisione non fu visto che poi come sapete a settembre nel corso dell'assemblea generale dell'onu altri paesi si sono aggiunti a questo obiettivo eh della neutralità nel duemila cinquanta ehm da dal sud Africa alla alla Corea del Sud eh la Cina che che sta producendo ehm centrale e carbone a tutto spiano ma comunque anzi è data un proprio obiettivo al duemila sessanta e certamente ci lavorerà perché non vuole perdere assolutamente il treno della transizione climatica e poi dopo le elezioni americane c'è stato il rientro eh degli Stati Uniti negli accordi di Parigi e l'avvio delle loro politiche quindi oggi siamo dentro credo un quadro che conferma che in fondo questa accresciuta ambizione aveva un suo razionale un suo fondamento ehm questa accresciuta ambizione ovviamente è sostenuta eh in parte anche da eh gli investimenti di questo Next Generation EU sapete che eh c'era anche una una soglia necessaria di investimenti da dedicare alla transizione climatica che era del trentasette per cento il che significa che un paese come l'Italia tra prestiti e trasferimenti avrà investimenti superiori al settanta miliardi nei prossimi cinque anni eh per la transizione ambientale al tempo stesso tutti questi piani nazionali di ricoveri sono eh passati al vaglio eh di il di un regolamento di alcune centinaia di pagine che si chiama do no significant harm eh cioè non fare guai eh dal punto di vista ambientale e ehm alcune centinaia di misure prese dai diversi paesi sono state eh esaminate ehm sotto questo filtro quindi direi ci sono delle condizioni importanti c'è un gran movimento anche eh nel campo eh finanziario ehm io eh al G20 eh a margini del G20 di Venezia ho partecipato a una a un panel con eh Christine Lagarde eh Larry Fink e Ignazio Visco su la finanza eh verde eh e naturalmente molti problemi di tassonomia di come eh la definiamo di come evitiamo eh rischi di di eh di greenwashing ma nell'insieme una attenzione da parte dei mercati finanziari eh globali impressionante eh considerate che eh noi abbiamo deciso che eh noi abbiamo deciso che il trenta per cento di questa emissione senza precedente di eurobonds sarà fatta attraverso green bonds e nell'ambito di questo certamente sui sui temi finanziari a Regione Ermete e noi eh regoleremo per quello alla Commissione Europea si regola soprattutto quindi non puoi avere dubbi ermete che se è che sia in gestazione anche una regolazione che riguarda le eh criptovalute per i loro impatti a diverso livello e che mi pare sia prevista per il primo trimestre dell'anno prossimo spero di non sbagliare tutta questa gigantesca operazione ehm fatemi concludere con due osservazioni generali la premessa è quello che diceva prima eh Francesco Starascio cioè che qui l'alternativa è tra una eh trasformazione distruttiva e una trasformazione gestita perché la trasformazione ci sarà e e lo e ne vediamo eh molto chiaramente le le conseguenze e sono conseguenze di ogni genere pensate alle conseguenze non solo ambientali ma anche geopolitiche di quello che sta succedendo nell'Artico per esempio avremo cambierà il mondo il punto è se noi ci riproponiamo questa gigantesca trasformazione di gestirla eh oppure se eh ne siamo solo oggetto passivo rischiandone di esserne travolto se ci proponiamo di gestirla dobbiamo proporci degli obiettivi molto ambiziosi ed effettivamente ridurre a zero le emissioni delle automobili al 2035 è un obiettivo molto ambizioso eh innovare 35 milioni di edifici in Europa da qui al 2030 è un obiettivo molto ambizioso portare al 40 per cento il contributo delle nuove rinnovabili è un obiettivo molto ambizioso questa ambizione deve fare i conti con due credo eh grandissime sfide la prima è la sfida sociale che è stata richiamata eh da dal ministro e e da altri nel corso di questa discussione e che è eh certamente fondamentale in modo specifico anche perché tra gli strumenti che eh la commissione ha deciso eh di utilizzare per questo eh incremento dell'obiettivo di di riduzione delle emissioni c'è anche un'estensione della eh del meccanismo di emission trade system eh ai ai sistemi di riscaldamento degli edifici e di eh trasporto automobilistico eh che eh sarà un elemento dal punto di vista della gestione eh sociale da considerare con grandissima attenzione. Noi ne abbiamo discusso molto qui a Bruxelles negli ultimi mesi confrontandoci ovviamente con le parti sociali e con i governi soprattutto alcuni governi sono stati attivissimi in questi mesi eh è chiaro che la logica è una logica di eh mitigazione e compensazione tra paesi e aree più o meno avanzate e quindi una parte di questi fondi molto consistenti sono più di settanta miliardi eh viene dedicata a questo doppio obiettivo mitigazione dei eh dell'impatto e compensazione tra aree più avanzate, aree più arretrate, paesi che possono affrontare questa transizione meglio e paesi che sono più in difficoltà. Voglio essere molto chiaro nel dire che è chiaro che il compito della mitigazione è un compito eh sul quale si cimenteranno tutti i governi non solo eh le decisioni europee perché a tutti spetterà considerare in che modo eh evitare che la transizione eh abbia delle conseguenze dal punto di vista eh sociale eh di quella che che definiamo la povertà energetica che alla lunga possono essere difficili da sopportare e tuttavia sappiamo tutti almeno tra chi partecipa a questo panel poi non è detto che il discorso sia facilmente eh condivisibile da tutti sappiamo bene che il costo di fare troppo poco o addirittura di non fare nulla sarebbe anche dal punto di vista sociale perché anche il costo eh del rischio ambientale non è affatto un costo uguale per tutti, è un costo che grava molto di più sulle ehm parti più deboli del pianeta e sulle fasce di reddito più deboli all'interno dei singoli paesi. Quindi non muoversi sulla transizione ambientale non è un modo di essere socialmente consapevoli, è un modo semplicemente di spostare in avanti i problemi. Muoversi oggi certamente significa avere almeno dieci, quindici anni molto impegnativi per gestire questa transizione ma anche averne le grandissime opportunità, a me te le ricordava prima, in termini di avanzamento tecnologico, di posti di lavoro. Per questo io dicevo prima non credo che la Cina eh sarà assente da questa corsa perché è vero che sta facendo enormi investimenti ancora nel carbone ma è altrettanto vero che eh vorrà essere all'avanguardia nelle tecnologie verdi nella in tutto quello che la transizione ambientale comporta. Quindi prima sfida è la la sfida della eh coesione sociale e di come gestiamo eh questa situazione considerando molte delle misure che prendiamo per accelerare la transizione climatica eh come misure che hanno bisogno di essere compensato il cui obiettivo principale non è raggiungere aggiungere risorse alla finanza pubblica ma ottenere obiettivi ambientali. Certo non dappertutto lo si può fare in modo diciamo così lineare certamente in Europa non lo si può fare come lo si fa in Canada per esempio no dove come sapete la la il paese ha firmato ha fissato un prezzo per 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 il carbone che adesso è di 50 dollari ma è supposto arrivare a duecento a centosettanta dollari eh nel giro di meno di dieci anni e questi aumenti di prezzi vengono restituiti alle famiglie con degli assegni che arrivano anno per anno e che sono diversi a seconda delle diverse regioni del Canada affermando il principio che non c'è nessuno introito per la finanza pubblica ma c'è soltanto un eh guadagno per la transizione ambientale. Non sarà altrettanto lineare eh in Europa perché ovviamente le caratteristiche dell'Unione Europea sono molto diverse da quelle di un singolo paese ma al fondo l'idea che stiamo avendo a che fare con delle misure il cui obiettivo è principalmente ambientale non deve sorgirci. L'ultimo tema è il tema della del contesto internazionale. Qui è chiaro che all'Unione Europea spetta eh il compito di cercare di tenere insieme costruendo un equilibrio su questo eh l'ambizione e la collaborazione internazionale perché se noi in attesa faccio un esempio di raggiungere un accordo per un prezzo internazionale delle emissioni di CO2 eh fermassimo il treno europeo credo che saremmo irresponsabili perché magari per raggiungere un'intesa globale sul prezzo internazionale delle emissioni servirebbero 15 anni e contemporaneamente se le cose che decidiamo non sono inserite in un quadro di collaborazione globale in uno sforzo di collaborazione globale come è stato ricordato eh nella in questa nostra discussione eh l'Unione Europea eh rappresenta all'otto nove per cento delle emissioni globali anche se se fa il massimo eh certamente eh non risolve il problema e certamente si espone al a quello che viene definito carbon leakage cioè al fatto che una parte delle proprie produzioni possano andare altrove in cerca di sistemi ehm migliori e oppure chi vive in paesi con standard più bassi possa venire a a invadere i mercati europei direi che la cooperazione internazionale è positiva da questo punto di vista eh se io devo paragonare gli incontri che abbiamo avuto con il mio amico John Kerry alcuni mesi fa eh forse in marzo qui a Bruxelles e quelli avuti a Londra e poi a Venezia con eh Janet Yellen e le notizie apparse sul New York Times ieri sul prossimo budget americano si vede un'evoluzione negli Stati Uniti sul tema eh di possibili iniziative di carbon pricing eh che è molto interessante. attorno al tavolo del eh G7 eh queste ipotesi sono molto forti nel tavolo del G20 come ricordava prima eh Cingolani la discussione è molto più complicata naturalmente perché ci sono grandi paesi eh che hanno eh dei punti interrogativi sulla velocità di questa transizione è molto utile però che l'Italia si che l'Europa si presenti con le carte in regola. Il fatto che di questo famoso eh fondo per il clima di cento miliardi che fu deciso con gli accordi di Parigi l'Unione Europea abbia contribuito fin qui al ventotto per cento di questi cento miliardi è credo una credenziale per Bruxelles eccezionale nel dibattito che ci sarà da qui a COP eh 26 perché forse la cosa più sentita delle grandi economie emergenti è il ritardo da questo punto di vista. Quindi l'Unione Europea ha le carte in regola deve naturalmente però combinare la propria ambizione con l'importanza di eh una cooperazione globale perché da soli non si risolve il problema della transizione climatica. Grazie. 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 Grazie.